Hi guys, so Fala Galera, hola chicos e oggi ragazzi benvenuti al terzo episodio di Extreme Races, gare estreme. Siamo con questa T20 standard, era l'unica macchina che si poteva scegliere, una gara clean max creata da Shantus 786, Shantui, come lo chiamo? Ok raga partiamo subito, tutti agguerriti qui, sono un paio di player abbastanza bravi che già conosco, speriamo di andare a vincere, la gara si prospetta bellissima, speriamo bene, speriamo in tutto, raggiungiamo almeno, raga 1500 mi piace e mi raccomando e spero che mi accontentiate, condividete sto cazzo di video con i vostri amici italiani perché voglio aumentare sempre di più la comunità italiana, cioè mi fa piacere ovviamente, così sta curva qua, oh cazzo siamo nel parcheggio, si salta qui? Sì, sono piattaforme, andiamo subito, andiamo, oh cazzo ragazzi stavo per fare un front flip ma qui nel palazzo, ma non potevo, che cazzo è? Ah ce l'ha scritto mettere in prima, bellissimo, già l'ho fatto una volta sulla playstation 3 o una cosa del genere, si sale sul palazzo, stupendo raga, dai dai però dai, veloce dai, muoviti, forse zig zag va più veloce, dai 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 dai, che figata raga, che figata, però la macchina non va, siamo quasi lì, siamo quasi lì, nel checkpoint sì, perfetto, eccolo qui lo stunt, questo è lo stunt, vediamo un po', questo dovrebbe essere automatico, sono qui, benissimo, bellissimo ragazzi, sì, velocissimi, dai, no che cazzo ci sono, no, no, fermati, fermati, prendi questo cavolo di checkpoint, sì, ho preso il checkpoint raga, mi sa che dobbiamo respawnare, eh sì, una figata assurda, qui devo andare di qui, ok, perfetto, siamo quarti raga, purtroppo, non so, è andata a sbattere una violenza esagerata nel muro e ci dobbiamo accontentare di questa quarta posizione, Fabio Caria, Caria non so, Fabio Caria credo, primo posto e vediamo quante secondi ha da noi, credo abbastanza, nove secondi, sono tutti lì a nove secondi raga, qualcuno abbandona la sessione, strano che non è, forse quello che era fermo lì al primo checkpoint, ora andiamo qui, curva infame raga, anyway, congratulations Shanto, I love this race, I love that stunt, I enjoy it so much, ok ragazzi, siamo di nuovo qui, questo era il terzo, proviamo raga a andare più veloce possibili, se ti faccio una cosa del genere, se ti faccio lì qua, riesco a andare più veloce, che dite, no, ok forse ho trovato il metro raga, non devo accederare al massimo, forse sì, ma io accederò al massimo, ma io accederò al massimo, dai muoviti veloce, dai, dai, ok perfetto, possiamo mettere la telecamera così, siamo secondi, ah peccato ragazzi, siamo secondi, Fabio Caria è primo, eccolo qui lo stand superbo, non, non, ecco qua, questa volta non è in secca volta, siamo secondi, andiamo a chiudere probabilmente in seconda posizione raga, almeno che questo dietro ci recupera, ma non credo, ok, è nostra, è nostra la seconda, è nostra, è nostra, Fabio Caria in prima, ma noi in seconda e ci vediamo subito alla seconda gara, ed eccoci qui ragazzi, alla seconda gara BMX So Serious, una gara creata da Haha, sì, il nick è Haha, ed è proprio nella gara poi ragazzi, sono in questa lobby ora con CCC, KF Filter, che è un grande creatore, ma soprattutto un grande pilota, e vediamo un po' sta gara moddata ragazzi, come, com'è, vediamo che pazzia ci possiamo andare a trovare, siamo all'osservatore, guardate che, che tamarrata, stupendo ragazzi, ok, preso il checkmate siamo primi, dai dai dai, dobbiamo essere belli concentrati, sì, appena ho parlato nel muro, ok ragazzi, qui si fa una cosa un po' più difficile, questo bastardo mi ha buttato fuori, dai iniziamo ragazzi, il karma subito ha funzionato ed è caduto anche lui, dai, mantieni fine quelli, no, perché è andato avanti, anzi non è facile questa parte, vi giro che è infamissima, guardalo, porca era ragazzi, già sto, già sto sclerando, ok, no, perché non gira la bici, però vedremo, ok ci siamo, ci siamo, diciamo con la, no, ho preso il checkpoint, madonna, ok, dobbiamo riuscire a recuperare il primo, ragazzi, non so, spero che ci siano altre parti difficili nel tracciato, perché se no, ragazzi, devo andare qua, ok, su life in video, ragazzi, che queste cose modate, ok, ok, dai dai, muoviti, muoviti, no, è caduto, ragazzi, non ha preso il checkpoint, è caduto, no, più tempo, più mi ingrippo, e più perdo tempo, facendo stronzate, su stronzate, su cose semplicissime, come questa, non cadere, ok, perfetto, dai, che dai, che è semplice, possiamo recuperare, dai, 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 ok, ora di qui, che cos'è questo, che cos'è, un punto esclamativo, no, ragazzi, incredibile, ok, perfetto, così, facciamo una pirouette, come il nostro, che ci piace a noi, qui dobbiamo scendere di qua, credo, sì, ok, perfetto, anzi, quanta fantasia di haha, per creare sti circuiti, non andare a finire a terra, ok, perfetto, andiamo sul cono enorme, questo è il secondo, ok, guardatelo, 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 il mio personaggio, quanto è stupido, vabbè, il primo è haha, quello che ha creato, ovviamente, il circuito, quindi la, l'andrà a vincere, vincere lui, probabilmente, diamo un po', ragà, qua è qui, un veloce, 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 siamo secondi, ragà, siamo secondi, c'è caffi filter davanti a noi, dobbiamo recuperarlo assolutamente, ragà, mancano, ah, sono 37 checkpointi, quindi, ragà, quindi la gara è abbastanza lunga, ragà, possiamo farcela, saltone qui, ah, qua non vorrei morire, bene, benissimo, ottimo, ragazzi, stiamo andando velocissimo, siamo primi e vaffanculo, ragazzi, appena sono primo sbaglio, che cosa è qua, che respawn è qua, dai, che cazzo di respawn è questo, perso una gara così, ecco il respawn, ragazzi, cioè, dopo un milione, che cazzo è successo, non ho capito un cazzo, madonna, vabbè, ragà, credo che questa sia una seconda posizione, come la prima gara, andiamo a prendercela, almeno questa, anche se che filtro lì, ah, eccola, container bianchi, mai visti, siamo primi? Eccolo che filtro, ragazzi, è sbagliato, dai, che ce la fai? Eccolo che ce la fai? No, ragazzi, no, per pochissimo, eh, sì, 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 ce la facciamo, siamo primi, ragazzi, mai perdere le speranze, mai perdere le speranze, never give up, ragazzi, never, ok, proviamo ancora un altro saltone, e, atterra qui in questa, che cazzo è qui, questo, questo, questo non tener bianco, dovrebbe essere difficile, infatti, atterra qui sul, sul palazzone, ok, benissimo così, ragà, questo, ok, c'è un'altra ruota qui, trasparente, perfetto, ragazzi, dai, che ce la possiamo fare, poi ce la possiamo fare facilmente, Proviamo Se Ci riusciamo ottimamente E ora qui Ora qui Eh ora qui sono da finire Diretto con la testa nella Non possiamo chiamarle queste Nella ruta panoramica Sì Ok raga Ora qui Quello è il traguardo Abbiamo già finito E andiamo a concludere In prima posizione Ci vediamo subito Alla terza e ultima gatta Ed eccoci qui raga Che cazzo sta succedendo Alla terza gara Eh sì Eh sì Giochiamo così A piedi noi Con gli altri pueri sono lì Con le mie Con le mie bellissime stelline americane in testa Ricchioncello Invece gli altri partono in moto Vaffanculo Prendi vieni Ok raga Ho scelto l'abbati Questo è uno skill test Dedicatomi da Un ragazzo brasiliano Guiga Pudim Brigado Cioè no Brigado Valeu cara Sì brigado andava pure bene Sto via gratt Che cazzo è Che cazzo è raga Ok qui Abbiamo preso lo stanto Qua che c'è Ancora lo stesso ragazzi Oh cazzo Bisogna dare drittissimi E vaffanculo No dai Io faccio lo stanto E quello mi muore Cioè ma Che cavolo Muoviti dai Ok c'è già il primo lì Dobbiamo recuperare subito raga Dobbiamo recuperare assolutamente Ok Preso qui Non morire Perfetto Prendiamo velocità Prendiamo velocità Ancora così raga E per ora dovrei riuscire a non morire E ancora ragazzi Questa gara già si prospetta abbastanza Il suo skill test è abbastanza Rognoso eh Rognoso credo sia la parola esatta Ok siamo dritti Un po' più qua Perfetto Non morire di breve Non morire Non morire Non morire Siamo un po' storti Vediamo se riusciamo Ad adrizzare Eccolo qui ragazzi Vediamo se riusciamo Siamo terzi C'è il checkpoint Non morire Sì Non moriamo neanche Benissimo così Andiamo Cos'è qua Oh cazzo Oh ragazzi Madonna che stavo combinando Ragazzi cosa ho visto lì C'è un circuito in area Fluttuante No cazzo Questa è la parte difficile Il checkpoint Dove cazzo è il checkpoint Prima di più Laggiù Sul palazzo Si potrebbe cittare Ma non lo so Proviamo Che cazzo è già Già c'è qualcuno che ci è uscito Cazzo Ah ah Già sa È andato a vincere Già ha vinto ragazzi Come cazzo ho fatto questo Oh mio dio ragazzi Oh mio dio No non ci credo Vediamo un po' qua Di riuscirci pure noi Come cazzo ho fatto In due minuti Ragazzi sono qui Stoppo un attimo il video Perché vi voglio dire Una cosa in post produzione Questo ah ah Dopo la gara Mi ha mandato un messaggio privato Dicendomi che è riuscito A accettare la gara Assaltare tutto il pezzo Dello stunt Lì fluttuante E praticamente Per questo abbiamo perso La prima posizione Cioè ha fatto tutto al volo Cazzo complimenti Con la manipulation bro You're a monster Ok Che cosi Uh qui c'è un troppo Bocchetto Giusto Ah Eeeh Freno Nooo Ah quella parte Bastardissima Quella parte Super bastarda Veramente Ragazzi Vediamo un po' come fare Ora No 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 Siamo guardati giù E non so Che quello è riuscito A fare tutto al volo Ho accettato Nel senso Dopo Ma vaia Tipo si potrebbe cittare Da qua a là Non lo so Non credo però Ma come cavolo ha fatto Quello a fare tutto di prima Ragazzi Mostro Dai proviamo a fare Sta cosa Lezza C'è gente che si suicida Purtroppo siamo in cinque Sto provando a imitare Gente ma non Non entro Non so perché Salutiamo il nostro Ccc Ehi buddy Come Ok non voglio cadere Però così cado forse Sono bloccato Ok perfetto Ci siamo riusciti Ragazzi questa è la parte bastarda Ok perfetto Perfetto ragazzi Ora Ora c'è questa parte qui Che non è Non è facile ragazzi Bisogna Bisogna stare in equilibrio Ragazzi In equilibrio In equilibrio Qui c'è una curva ragazzi Bastardo L'ha creata Ok Perfetto Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ragazzi manca l'ultima parte Manca l'ultima Cazzo di parte Poi c'è un salto Enorme di sul palazzo Beh dovremmo uscirci Spero No Veramente cominci a bestemmiare Porco No veramente Lì si inizia a bestemmiare Perché cioè Io non vorrei ma Me lo tirano dall'anima Proprio dalla pancia Perché non è possibile Cioè Ho fatto tutto questo casino Ho provato a sbagliare Quella cazzata lì Mi sono distratto a vedere Il checkpoint giù Dove era Ok Questa è una parte bastardissima Frina Perfetto Ma in realtà non è tanto difficile Basta Basta farlo una volta Qui andiamo un po' più veloci Vi concludere sta gara Non è messa in seconda posizione C'è Secondo me ha provato a cittare Ccc Cheater Cheater Ok raga Qui ho sbagliato incredibilmente Prima Ok si è suicidata Ho provato qualcosa giù Ok raga Ci siamo Oh cazzo sto percadendo Ok massima velocità Andiamo di cavallo Andiamo a fare questo cavallo Oh cazzo raga Non è per niente vicino No ragazzi No 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 raga no Cioè ma ci rendiamo conto Di come cazzo è difficile Prendere quel check Quanto lì Oh intanto sta guardando anche Noe De Bone E salutiamolo Sicuramente i braziani Lo conosceranno Ora che sta facendo anche Le collaborazioni con i Piratas Youtuber brasiliani Ok raga Andiamo un po' Dai 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 Frena qui Ok ci siamo di nuovo qui raga Se arrivo di noi Non posso sbagliare di nuovo il salto Mi sa che devo andare Un po' più a sinistra Perché No no Aspetta 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 Non facciamo cazzate Non facciamo cazzate Intanto Cccc Si suicida Continuamente Ragazzi Non facciamo Nessuna Cazzata Non voglio fare Nessuna Cazzata Ok ci siamo Continuiamo a suicidarsi Triple C Ok raga Veloci Bella così di punta Andiamo un po' Così storti Ok raga siamo perfetti Devo Glidare Così almeno si dice Ok ci siamo Ci siamo E andiamo A chiudere Inizia con la questione Sono sudato raga E ci vediamo Al prossimo video Falou Ciao c'è 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 Grazie a tutti.